Buonasera a tutti ragazze e ragazze, buona domenica, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal web. Notizia proprio degli ultimi minuti, grazie al portale Vincolo delle News. È successo poco fa nella registrazione di Uomini e Donne di oggi 10 ottobre. In studio ci sono state ben due scelte inaspettate. Sto parlando della scelta del tronista Matteo, che ha scelto lei Noemi, e quella del trono classico, ossia Antonio ha scelto Angela. Ma vediamo un attimo di capire che cosa è accaduto. Nella registrazione di oggi il tronista Matteo ha fatto la sua scelta a sorpresa, eliminando Francesca e Valentina e così i lacrime ha scelto Noemi. La sua scelta, a quanto pare, grazie alle anticipazioni, sia proprio stata inaspettata, perché il tronista Matteo ha scelto Noemi anche grazie al consiglio di Raffaella Mennoia, la redattrice di Uomini e Donne, che era lì proprio presente in studio per presentare il suo nuovo libro. Per questo motivo lei gli consiglia di viversi la sua nuova storia d'amore con Noemi al di fuori delle telecamere. E sempre grazie al vicolo delle news possiamo anticiparvi che anche Antonio, protagonista del Trono Over, ha scelto Angela. Loro due hanno deciso, dopo la breve frequentazione in studio, di viversi al di fuori delle telecamere. Una puntata ricca sicuramente di emozioni e se avremo presto aggiornamenti saremo qui i primi a comunicarveli. Tutte queste notizie lo sappiamo grazie alle talpine del vicolo delle news. Ci tengo a citare la fonte, quindi come sappiamo qualsiasi cosa a riguardo lo comunicheremo presto. Iscriviti al mio canale se ti va, lascia il mio like e attiva la campanellina per non perderti questo ma nessun altro prossimo video. E scrivimi giù nei commenti che cosa pensi di queste due scelte.